Qual è la parola chiave per questo momento? Qualità, sicuramente la qualità del servizio. Oggi non possiamo prescindere da un servizio di qualità e noi ci candidiamo ad essere gli operatori qualificati del nostro settore. Un messaggio a tutti i consulenti? Quello di investire molto nella professione, quello di investire nelle proprie capacità di essere stati interpreti dei clienti, delle loro esigenze e di esserlo anche per gli anni a venire. La nostra sarà sempre di più una figura centrale nel panorama e nel mercato finanziario italiano.